Ciao, bentornato oggi sul canale italiani con notizie come punto dopo le sue ultime decisioni, la professoressa Pettinelli di Amici si è messa contro davvero tutti, il suo è stato un passo falso tremendo Ad Amici le sorprese non mancano mai, i giovani cantanti e ballerini continuano a sfidarsi alternando sconfitte e vittorie, sperando di raggiungere il successo grazie al programma Nell'ultima puntata abbiamo assistito al debutto del cantante livornese Ail Il ragazzo è pronto a entrare nella scuola di Maria De Filippi Classe 2004, il giovane ha conquistato i professori della scuola Il 29 ottobre il programma ha omaggiato Danza del Vento, un evento molto conosciuto in Gallura Il vincitore della sfida di danza, il ballerino Dustin, ha ottenuto la possibilità di esibirsi nell'edizione 2024 dello spettacolo Sardo Nell'ultima puntata è successo anche qualcosa che ha scioccato il pubblico in studio e a casa e che ha provocato delle conseguenze inimmaginabili che potrebbero minare il futuro di alcuni membri del programma Durante la sesta puntata di Amici sono successe molte cose, a partire da Mida che ha dovuto affrontare una sfida per salvarsi Fortunatamente è andato bene e il ragazzo è rimasto nel programma Purtroppo non è successa la stessa cosa a Ezio, ultimo nella gara di cover, per lui l'avventura nella trasmissione di Maria De Filippi si è conclusa prima del tempo Punto è stata Anna Pettinelli a decidere il suo futuro, ma ha commesso un errore imperdonabile Nel programma l'atmosfera non sarà più la stessa e l'esito delle serate potrebbe cambiare completamente a causa di una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato L'eliminazione di Ezio da Amici ha generato un caos incredibile tra gli utenti Anna Pettinelli ha ritirato la maglia del suo allievo allontanandolo definitivamente dal programma e il pubblico non l'ha presa bene Ridicola sempre scrive un utente indignato, e gli altri confermano il punto di vista dandogli man forte Sono arrivati commenti arrabbiati persino da fan stranieri del cantante Anna Pettinelli secondo molti ha fatto un passo falso e non è piaciuto neanche il modo col quale ha comunicato al giovane che sarebbe uscito dalla gara Secondo la maestra, il ragazzo non ha fatto i miglioramenti che lei si aspettava, quindi ha ritenuto che dovesse entrare qualcuno con più determinazione e talento Pettinelli si è attirata l'ira del pubblico e sarà difficile conquistare la sua fiducia nelle prossime puntate, intanto continuano i commenti di supporto al giovane sul web che cercano di confortarlo, sostenendo che avrà comunque una carriera fortunata anche senza partecipare al programma Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video